Conoscendo il mister, un po' sì, perché lui non è uno che difficilmente molla, però si vede che secondo me c'erano i presupposti per questa scelta, quindi di conseguenza se l'ha fatta vuol dire che c'erano tutti i motivi per poterlo fare, comunque è chiaro che come dicevo prima è difficile il nostro lavoro, è molto difficile, lì al di là del discorso tattico sicuramente ci sono stati anche altri problemi che chiaramente non l'ha detto lui, figurati se lo posso dire io, quindi di conseguenza bisogna saper accettare, bisogna saper stare in questo mondo, che per l'allenatore secondo me è sempre molto più difficile perché comunque comandano altre situazioni.